I alimenti sono quelle sostanze che, introdotte nell'organismo, vengono assimilate e distribuite in tutto il corpo e che sono necessarie al suo funzionamento. Gli alimenti sono raggruppati secondo i principi alimentari che li compongono, classificati in principi organici e principi inorganici. I principi organici sono i carboidrati, che svolgono una funzione prevalentemente energetica, i grassi o lipidi, che hanno una funzione di riserva energetica, le proteine, che hanno soprattutto una funzione plastica perché intervengono sull'accrescimento e nel mantenimento dei tessuti organici, le vitamine, che svolgono un'importante funzione di regolazione e di protezione. I principi inorganici sono costituiti dagli elementi minerali che assicurano la costruzione e la riparazione dei tessuti e svolgono funzioni di regolazione e di controllo. Anche l'acqua nell'alimentazione umana è fondamentale. Il corpo umano contiene circa il 63% d'acqua. Tutti gli alimenti di natura organica contengono carbonio idrogeno e dopo essere stati assorbiti vengono bruciati nell'organismo. Questa trasformazione avviene con sviluppo di calore. Sperimentalmente è stato calcolato il valore calorico medio dei diversi principi alimentari che viene espresso in calorie o in joule. A differenza di un motore che, se rimane fermo, non consuma, l'organismo non si riposa mai. Tutte le funzioni vitali non cessano mai e quindi esiste sempre un consumo minimo di energia, chiamato metabolismo basale. Per calcolare il fabbisogno calorico giornaliero si parte da questo valore minimo e si aggiungono le calorie necessarie per le attività che l'individuo svolge durante la giornata. Oltre all'attività svolta, influiscono sul fabbisogno di un individuo fattori come l'età, il genere, il clima, lo status di salute. La piramide degli alimenti indica i comportamenti da tenere per una corretta alimentazione. Nella piramide compaiono tutti gli alimenti che devono essere presenti ogni giorno sulla tavola, nelle giuste proporzioni, molta frutta e verdura, parecchi cereali, una certa quantità di alimenti d'origine animale, pochi grassi e zuccheri aggiunti. Una dieta sana e bilanciata che garantisce il giusto apporto di principi nutritivi è offerta dalla dieta mediterranea, che comprende gli alimenti legati alla terra, al mare, alla cultura del nostro paese, come pasta, frutta e verdura, legumi, pesce azzurro, olio d'oliva. Grazie.